Ben ritrovati su The Wine Channel, io sono Francesco e oggi parleremo di Vin Broulet. Che si chiami Glühwein come in Germania, Winshaut come in Francia o Mühlewein come in Inghilterra, stiamo sempre parlando del Vin Broulet, questa bevanda calda a base di vino e spezie che ci accompagna durante il periodo. Invernale, se vi è capitato di frequentare un mercatino di Natale o una festa popolare in questo periodo avrete sicuramente trovato il banchetto con la sua bella pentolaccia e una serie di clienti raffreddati che cercano conforto dal freddo. Questa bevanda inizialmente aveva questo scopo nei tempi antichi, dare una sorta di conforto ma anche qualche versante medico per i malanni di stagione, come cura dai malanni di stagione e trae comunque origine da tempi antichi, se ne ha una certa conoscenza o comunque una certa produzione anche nell'antica Grecia. A livello territoriale lo troviamo in tutta Europa, principalmente nell'Europa centrale dove viene consumato durante il periodo dell'Avvento, ma anche qui ci sono dei, fra virgolette, Vin Broulet locali prodotti durante determinate feste o determinati periodi, soprattutto in inverno e fin verso il Carnevale. Per quanto riguarda invece le origini, quindi da dove proviene il nostro Vin Broulet, come abbiamo detto dobbiamo fare un salto abbastanza indietro, dobbiamo andare nell'antica Grecia, quando veniva prodotta una bevanda molto similare al Vin Broulet che si chiamava Conditium Paradoxum. Di questo infuso abbiamo le prime notizie nel De Re Cuchinaria di Marco Gavio Apicio, un patrizio romano che potremmo dire uno dei primi gastronomi dell'umanità, quindi uno delle prime persone, delle prime personalità, che ha redatto una sorta di ricettario, di raccolta di ricette del tempo. Lui è vissuto fra il 25 avanti Cristo e il 37 dopo Cristo e quindi in questo suo libro descrive la ricetta appunto di questo Conditium Paradoxum, che era prodotto sostanzialmente con vino dolcificato con abbondante miele, scaldato diverse volte e aromatizzato con delle spezie come il pepe, lo zafferano e le foglie di nardo e con l'aggiunta di datteri. Sul discorso delle foglie di nardo, anche qui non è molto ben chiaro, perché le foglie di nardo, per i greci il nardo era la lavanda, ma si parla di nardo anche per un prodotto, una pianta officinale proveniente dal Medio Oriente e dall'India, che veniva usata come incenso. Quindi anche qui non è molto ben chiaro di quale delle due piante si faccia riferimento, ma è sicuramente certo che questa bevanda venisse utilizzata come fine pasto da offrire ai propri ospiti o addizionata ad altre erbe, soprattutto erbe officinali, erbe medicinali, come farmaco, quindi come una sorta di medicamento per i malanni della stagione. Ecco, quindi diciamo un'origine anche un po' medica, come poi anche avviene per altre tipologie di cibi o bevande. Facciamo un salto temporale, ci troviamo nel Medioevo e troviamo invece l'Ippocrasso. L'Ippocrasso, il cui nome deriva da Ippocrate, il primo medico dell'umanità, quello del famoso giuramento, anche se in realtà questo prodotto, questo infuso, non è originario dell'antica Grecia, ma è un prodotto medievale, se ne hanno le prime tracce, certe, quindi di fonte scritte intorno al XIII secolo, ma è dal XV secolo che noi lo troviamo proprio chiamato in questa maniera Ippocrasso. La prima ricetta, come dicevo, del XIII secolo sono tratte dal Tractatus de modo preparandi e condiendi omnia cibaria. Come vedete i libri nell'antichità avevano dei titoli abbastanza lunghi, però molto esplicativi, perché si tratterebbe sostanzialmente del trattato, del modo di preparare e condire qualsiasi cibo. E queste ricette trovevano origine principalmente nella Spagna orientale e nella Francia meridionale. Oggi è un vino piuttosto raro, prodotto in alcune zone della Francia e in qualche piccola zona dell'Italia, ed è utilizzato anche ancora nella cucina greca. Ma di che cosa consiste questo infuso? Allora, la ricetta di base prevede per 3 litri di vino l'aggiunta di 200 grammi di miele e più delle spezie chiamate Royales. Ovviamente qui sulle spezie si apre un mondo, perché è un po' come tutti i preparati casalinghi o che hanno ricette sparse un po' in diverse zone d'Europa, ognuno ci metteva un po' quello che voleva. In realtà di base sicuramente vengono usate cannella e zenzero, ma a volte si trovano anche le aggiunte di altre erbe oppure altre spezie a corredo di questa bevanda. Solitamente una volta preparato questa bevanda viene lasciata riposare e filtrare e quindi grazie anche all'aggiunta di questo miele, la concentrazione di questo miele, è una bevanda che si conserva piuttosto a lungo. E' ancora dibattuto oggi se veniva riscaldata per il consumo oppure no. Veniva riscaldata in origine per la produzione, ma non è detto che durante il consumo venisse altrettanto riscaldato. E quindi questi sono i due progenitori e poi arriviamo invece al vino e brulè, quello che noi beviamo normalmente. La ricetta direi che se andate in un qualsiasi sito online di cucina la trovate molto agevolmente, però di solito è un vino, quindi di solito rosso, ma viene usato anche il bianco in alcune parti d'Europa, come ad esempio in Austria oppure anche in Italia. In alcune zone d'Italia si usa anche il vino bianco con l'aggiunta di zucchero e spezie. Di base le due spezie che ci sono quasi sempre sono la cannella e i chiodi di garofano, ma in alcune altre ricette potrete trovare l'aggiunta di limone, di mandarino, di anice stellato, di pezzi di mela. Quindi come vedete la varietà varia molto a seconda del gusto e della piacevolezza e delle sensazioni che si vogliono dare all'interno della bevanda. Solitamente questa unione tra zucchero, vino e varie frutta o spezie viene fatta bollire a lungo a fiamme e fiamme calore molto bassi. Questo perché? Perché se ci fosse troppo calore si andrebbe intanto a ridurre la parte alcolica. L'alcol etilico a 83 gradi tende ad evaporare e quindi si andrebbe ad abbassare il grado alcolico della bevanda. Ma oltretutto ci possono essere anche dei rischi legati a un'eccessiva degradazione degli zuccheri che possono produrre delle sostanze nocive per la salute e quindi è meglio evitare di bruciare o comunque cuocere troppo questi zuccheri per evitare che si decompongano. Solitamente quelli che trovate già pronti, già preparati spesso sono fatti con vini di non ottima qualità che vengono così riutilizzati, utilizzando appunto lo zucchero per mascherare il sapore non proprio corretto di questi vini ma invece se lo consumate prodotto artigianalmente o comunque prodotto con un livello qualitativo alto sicuramente vengono usati vini rossi o bianchi corposi di qualità proprio perché anche il vino deve dare il suo contributo in termini aromatici al bouquet complessivo di sapori che andrete a trovare nel vostro bicchiere. Che dire, in Italia ha diverse accezioni, diversi nomi perché appunto viene prodotto in diverse zone ad esempio si può trovare il vin bruit che viene fatto in Veneto che viene bevuto di solito a inizio anno in una festa che si chiama Panevin ed è prodotto con lo chardonnay con lo chardonnay al quale vengono aggiunti miele pezzetti di mela e chiodi di garofano quindi anche qui una versione un po' diversa così come in Romagna possiamo trovare il biso che è fatto con il Sangiovese quindi torna il vino rosso e biso perché? Biso in realtà come nome è un po' particolare perché può avere una doppia origine una origine dialettale biso, quindi bevici su è un modo dialettale appunto di dire di evocare o di invitare a bere qualcuno ma anche potrebbe derivare da Bischoff, il vescovo in tedesco e in inglese questo nome viene usato appunto per dire la parola vescovo ma anche per indicare una bevanda calda a base di vino rosso il cui colore richiama appunto la veste del porporato inoltre potreste trovare anche delle varianti come ad esempio varianti con il rum, l'acquavite o altri liquori però attenzione perché in quel caso più che di vin brulè dovremmo parlare di punch che è un tutt'altro mondo di solito il punch è prodotto appunto con super alcolici mentre invece il vin brulè è preparato con vino per quanto riguarda infine la gradazione alcolica di questo infuso solitamente va in base ovviamente al vino che si utilizza come prodotto iniziale a seconda della gradazione alcolica del vino questa bevanda potrà avere tra gli 11 e i 14 gradi ma oltre al vino di partenza incide molto anche la durata e la quantità di calore utilizzata nella preparazione dell'infuso quindi potreste trovare anche non solo proprio come bevanda in sé ma anche a seconda del momento in cui l'andate a degustare una gradazione alcolica che nel tempo potrebbe leggermente degradare e scendere bene direi che su questo argomento abbiamo detto tutto vi invito magari in questi giorni se avete voglia e modo di andare a degustare proprio con il freddo un buon bicchiere di vin brulee visto che siamo anche in periodo di Natale come sempre se questo video vi è piaciuto un vi piace è gradito iscrivetevi se ancora non l'avete fatto cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove uscite e condividete questo video con i vostri amici colleghi, parenti insomma tutti coloro che hanno voglia di sapere qualcosa di più del mondo del vino e vi anticipo già che in questo periodo natalizio farò qualche video un po' più particolare rispetto al solito mi raccomando soprattutto giovedì quando uscirà il video della degustazione che in realtà non sarà una degustazione vera e propria di un vino unico ma vi darò qualche consiglio e qualche suggerimento per i vini per il Natale quindi vini da portare sulla vostra tavola in occasione delle feste natalizie vi darò qualche consiglio anche per gli abbinamenti bene quindi in attesa di questi consigli e magari con un bel bicchiere di vin brunet che ovviamente uno solo non bevete ne tanti perché vi ricordo come sempre che bisogna bere con moderazione non bisogna bere se si hanno meno di 18 anni e non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose io per il momento vi saluto vi ringrazio e ci vediamo a una prossima puntata con Francesco e The Wine Channel e The Wine Channel